... Protestano davanti alla filiale della Monte dei Paschi di Siena gli operai e gli impiegati del Consorzio Smaltimento Rifiuti Salerno IV. Le emensidità arretrate sono numerose e la banca ha respinto i mandati di pagamento del Consorzio del Cilento. Dobbiamo dire che gli unici responsabili di questo risasse sul territorio sono stati i Consorzi di Bacino, che si sono lasciati usare dai comuni come banca, non hanno pagato le dovute spettanze ai Consorzi e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Io non so se la popolazione occidentale è al corrente che decine e decine di lavoratori non percepiscono il salario da 5-6 mesi. Lei diceva nell'intervento che sono stati pure delle pressioni contro gli operai, soprattutto a Valloscano. Sì, io devo denunciare questo fatto. Noi avevamo ipotizzato una manifestazione pacifica comunque, che avrebbe per un attimo fermato l'impianto in modo da accendere i riflettori sul problema. Devo denunciare che stamattina c'è stato qualcuno che ha detto ai lavoratori che se questa azione fosse stata posta in essere, molti di loro lo rischiavano in licenzione. Aggiungo che in base all'evoluzione normativa i lavoratori impiegati sull'impianto di Valle Scalo questa condizione minacciata la rischiano comunque, perché le normative ricevano cose diverse. Per cui noi non abbiamo altri armi come sindacati, siamo stati pacifici, continueremo ad esserlo, agiremo sempre nel rispetto delle regole, però si sappia che per quanto riguarda la wheel transport non ci fermeremo, non torneremo indietro. Questa azione proseguirà con uno stato di agitazione, quindi dobbiamo dire ai cittadini cilentani che devono aspettarsi dei problemi nei prossimi giorni. Un increscioso problema che si aggiunge, si ennovera su quelli che sono già parecchi della realtà rifiuti in Campania e nella provincia di Salerno. Sì, perché in questa situazione di transizione dalla realtà precedente alla società provinciale è accaduto che noi siamo stati come consorsi, prima commissariati, poi è stato chiarito che continuano con la legge regionale le nostre funzioni fino all'assorbimento dei servizi da parte della società provinciale. E quindi stiamo cercando di portare avanti senza dolori questa fase di transizione e con una collaborazione tra istituzionale, tra consorsi, province e comuni e se non che si è inserita questa situazione dell'anticipazione bancaria come servizio di tesoreria che noi avevamo al pari degli altri consorsi e che si rinnovava ogni anno. Noi stiamo ancora aspettando il rinnovo dopo un mese, praticamente la prima nota della tesoreria del Monte dei Paschi di Siena è stata il 30 dicembre che veniva mandata a consorsi e provincia per sapere cosa bisognava fare. C'è stata una fitta corrispondenza, dopodiché si è arrivati su indicazione anche del Presidente della provincia a richiedere il rinnovo del servizio di tesoreria per l'anno 2010, se non che loro lo hanno applicato, noi lo avevamo chiesto nei limiti del 2009, loro lo hanno applicato per legge sui 3 dodicesimi che è 500 mila Euro in meno rispetto a quello dell'anno precedente perché ci sono meno servizi effettuati, in quanto questi servizi sono transitati come raccolta alla IEL e quindi questi 500 mila Euro dovevano costituire un piano di rientro graduale e consentire all'ente di organizzarsi insieme ai comuni per pagare questo rientro, per far fronte a questo rientro, cosa già avvenuta per il passato e che la banca regolarmente ci ha portato avanti e ci ha concesso per gli anni passati, se non che su questa nostra richiesta che abbiamo rinnovata ancora una volta ieri di un piano di rientro e tutto il resto, nei colloqui intercorsi con i responsabili della banca c'è stato detto che non è possibile perché ci si è rigiditi trattandoci non come un ente pubblico che svolge servizi pubblici ma come qualsiasi negoziante prossimo al fallimento dove il piano di rientro che la banca lo fa l'ha fatto immediatamente sui mandati che noi avevamo predisposto per pagare gli stipendi di due mensilità, per cui 350 mila Euro circa che erano affluiti nelle casse delle banche dal 30 dicembre in poi li hanno trattenuti a scomputo dell'anticipazione. Risultati? Non ci sono i soldi per pagare gli stipendi, i fornitori, la benzina con il rischio di interrompere un pubblico servizio. In proposito abbiamo anche fatto rilevare alla banca che ci sono responsabilità nell'interruzione, poi vedremo chi si riassume perché noi il nostro lavoro politico e amministrativo lo stiamo facendo assumendoci le nostre responsabilità. Non possiamo essere trattati come ente pubblico alla stregua di un negoziante prossimo al fallimento. Al di là di quello che è il discorso di fare politico, ma non è che la banca, il Monte dei Paschi di Sera sta cercando in qualche modo anche di trattare un poco a livello anche di carattere finanziario, politico finanziario per mettersi nell'ambito della scia, della gestione rifiuti, del finanziamento, del gestione rifiuti nella provincia di Salerno? Questa è una domanda impertinente. Non conosciamo il progetto rapporto Monte dei Paschi provincia di Salerno. È una situazione che in ogni caso a noi a livello locale non può essere giustificata. e perché? Il servizio di tesoreria è un servizio pubblico che deve rispettare le regole pubbliche. Alle domande va data una risposta pubblica. Noi invece sapevamo di avere fondi accreditati dai comuni e questi fondi sono stati trattenuti senza alcuna risposta per iscritto. Noi abbiamo mandato i mandati, ci sono stati rispinti i mandati a mano senza alcuna giustificazione scritta. Quindi ancora oggi noi aspettiamo di sapere perché sono stati trattenuti quei fondi e perché ci sono stati rispinti i mandati di pagamento. A nostro avviso il secondo contratto, siccome il contratto è ancora in corso e non è stato sciolto dalla banca ma viene mantenuto ancora in piedi, a nostro avviso invece vi è qualche comportamento che non è giustificato. La banca ancora non risponde alla richiesta né dà giustificazione ai nostri continui alle nostre continue pressioni.